La conduttrice Giorgia Venturini protagonista di un monologo duro e di denuncia nel corso della puntata delle Iene Show, Italia 1, in onda venerdì 10 febbraio. La 39enne, che è diventata madre per la prima volta il 12 agosto scorso, ha attaccato il sistema italiano per quel che riguarda il support nel farlo ha anche rivelato per la prima volta che sua figlia, la piccola Sole T, ha una patologia che l'ha portata, da quando è nata, ad entrare ed uscire dagli ospedali. Sono madre da meno di 200 giorni di una bimba che è arrivata a scaldare la mia vita dopo che ho perso la mia mamma. Così ha esordito la Venturini che ha poi proseguito spiegando che sua figlia ha avuto problemi dopo essere venuta alla luce. Problemi che l'hanno per forza di cose costretta a misurarsi con il sistema sanitario italiano. Sole T ha raccontato la conduttrice è nata con una patologia che in questi mesi mi ha portato continuamente dentro e fuori gli ospedali. Ho conosciuto la fragilità e l'impotenza. Ma davvero ce la farò. Spazio quindi alle critiche sul pensiero dilagante circa il concetto di maternità. Ho conosciuto la difficoltà di chiedere aiuto per la paura di sentirti rispondere. Ah ma io ho fatto tutto da sola. E così resti in silenzio per non sentirti quella sbagliata. Alle mamma è stato credere di doversi farsi carico di tutto senza mai lamentarsi mai. Perché l'incanto della maternità ti ripaga sempre e la sofferenza fa di te un'eroina. E ancora. Questo mito serve a nascondere che in Italia spesso siamo lasciate sole fin dai primi momenti dopo il parto. Serve a nascondere il blocco delle assunzioni in corsia e il buco spaventoso di 9000 ostetriche che nemmeno più la famiglia riesce a tappare perché tenuta fuori dagli ospedali per via dei protocolli o perché le nonne, in una società che invecchia sempre di più, sono loro ad aver bisogno del nostro aiuto. Serve a nascondere le contraddizioni del rooming in. Che spesso non è un'opportunità ma una forzatura se non una violenza per una madre che chiede aiuto. Serve a mascherare il diritto di essere incompetenti. Di imparare senza essere colpevoli.